operiamo ormai dal 2016 quindi il nostro la nostra visione è quello di una comunità internazionale di geeks determinati a trasformare il proprio talento digitale in una professione ed è per questo che noi siamo nati nel 2016 oggi ci presentiamo come un network soprattutto un network italiano che ha l'ambizione di andare all'estero come vedete da questa slide nel 2020 prevediamo quindi di attivare una serie di attività all'estero tra queste vedete oltre al lugano dove abbiamo il centro in cui eroghiamo i nostri corsi di specializzazione legati al business e al mondo della blockchain chiaramente lo sapete che la svizzera in termini di legislazione è il come dire il paese più avanzato in europa seguito poi chiaramente da malta siamo stati a singapore l'anno scorso a marzo per avviare delle collaborazioni e soprattutto siamo stati tre mesi a seul dove poi vi farò vedere tra poco abbiamo avviato delle collaborazioni con il più importante istituto governativo di formazione in ambito blockchain la nostra formazione la nostra formazione è strutturata in percorsi modulari adatti sia a chi lavora e sia a chi ha terminato la scuola superiore quindi sono percorsi part time o full time i percorsi part time hanno delle durate che poi dipendono dalle esigenze se si ha il desiderio di cominciare da zero allora noi suggeriamo il junior expert che è la scelta strategica anche partendo da zero abbiamo il percorso 120 che invece per chi vuole mettere un piede nel mondo della data economy e capire se è un mondo che gli piace per chi invece punta anche ad una formazione aziendale proponiamo il junior professional poi chi ha l'ambizione assolutamente di acquisire il maggior numero di competenze specializzazioni orizzontali in un settore prendiamo il caso della cyber security offriamo il percorso mastery mastery program un percorso di 480 ore che dura un anno ma chi sceglie questa modalità la facoltà di completarlo in un anno e mezzo questo per quanto riguarda i nostri percorsi in maniera molto veloce poi chiaramente per chi lo desidera possiamo ritornare su questo aspetto l'importante è che sappiate che siamo presenti a Roma Milano Torino Firenze e Bologna siamo presenti nelle aree di lavoro come cyber security data science sicurezza artificiale blockchain gaming e coding e offriamo diversi percorsi con lunghezza variabile qui ne vedete quattro poi chiaramente per chi ha la possibilità c'è anche un percorso che chiamiamo il data economy mastery program un percorso di due anni di 1200 ore che copre trasversalmente le aree in cui noi operiamo eccoci qui arriviamo al punto e mi avvio alla conclusione della blockchain noi siamo da gennaio o meglio da dicembre 2019 sede di esame accredita da Exen Exen è un ente internazionale che ha sede in Olanda molto forte nell'Unione Europea nei paesi anglosassoni e in Asia noi offriamo tutta una serie di certificazioni tra cui anche la Exen Blockchain Foundation offriamo il percorso di formazione e quindi l'esame in sede presso di noi per passare e acquisire quindi questa certificazione siamo stati il primo centro in Italia e siamo credo ancora a certificare questa competenza specifica sulla blockchain chiaramente abbiamo un'offerta che anche qui permette di coprire diverse necessità si parte dal modulo Foundation che prepara la certificazione al modulo Blockchain for Business che permette di acquisire competenze su delle tematiche particolari come costruisci la tua mining farm costruisci la tua ICO su Ethereum abbiamo un modulo proprio specializzato sulle criptovalute e infine per i veri geek c'è il Blockchain Developer ossia sviluppare soluzioni Blockchain Based per il business quindi qui c'è anche una parte importante almeno 120 ore di programmazione che è sia con javascript che python io mi avvio alla conclusione semplicemente mi piacerebbe ricordare che abbiamo un'associazione di alumni di ex studenti che continuano a restare in contatto con noi gli diamo il nostro supporto anche nel mondo del job placement del fare colloqui con aziende anche chi lavora può avere l'esigenza di cambiare di riorientarsi professionalmente e noi siamo anche presenti dopo la fine del percorso ecco vi avevo fatto cenno ad una nostra importante collaborazione internazionale e facevo per l'appunto riferimento al Korea Blockchain Institute una realtà con la quale abbiamo stretto e firmato un protocollo d'intesa l'interesse loro è di mandare da noi degli studenti e noi a nostra volta mandiamo per un percorso di almeno due settimane a fare dei moduli di specializzazione nella blockchain la Korea è sicuramente avanti rispetto a noi italiani in diversi ambiti tecnologici e quindi diventa anche una bellissima esperienza un po' un viaggio nel tempo bene io con questa slide mi avvio alla conclusione adesso passo la parola a Clemente Clemente ci sei? mi senti? sì ci sono Clemente mi senti? sì 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 mi sento ecco qui allora adesso cariniamo carichiamo la tua slide a breve dovresti vederla Clemente è un nostro docente è il docente del blockchain fundamentals certificato Exyn è stato con me anche in Corea per un mese proprio per documentarci sulle tecnologie opportune per sviluppare anche un nostro progetto che è la blockchain per la formazione è uno sviluppatore in particolare per l'area Python ci aiuterà ad entrare poi in questo mondo della blockchain che ancora oggi nonostante tutto è un mondo ancora troppo misterioso o mal compreso ecco Clemente ti lascio la parola allora buonasera a tutti cercherò di fare del mio meglio vedete la mia immagine quindi se vedete tutti quanti il il powerpoint giusto andiamo un attimino partiamo dalla definizione che cos'è la blockchain quindi un insieme di tecnologie che permettono di registrare informazioni transazioni in questo caso anche di valore quindi possono riguardare delle monete virtuali e che vedremo in seguito si chiamano criptovalute ecco però partiamo dalla base blockchain quindi abbiamo due significati la catena in inglese chain e i blocchi perché significa nella mente degli ideatori che poi vedremo la storia che parte a circa dieci anni fa undici anni fa nel 2009 e memorizzate questo nome Satoshi Nakamoto ecco un americano diciamo giapponese che ha dato avvio a questa a questa innovazione allora blocco di che cosa noi parliamo di il blocco rappresenta un registro quindi in cui vengono non so se molti di voi conoscono la contabilità i libri mastri in cui vengono registrate tutte le transazioni ok quindi la blockchain è fondamentalmente un libro mastro un database distribuito in internet che ha queste caratteristiche fondamentali immutabilità del registro quindi il registro non può essere modificato quindi tutto ciò che viene registrato è comprovato da un timestamp che è praticamente un timbro temporale fa sì che quell'informazione quel dato quella transazione non possa più essere cancellata ok vediamo come dunque quindi queste transazioni vengono registrate in questo registro in una modalità criptografica quindi in codice ma soprattutto questo registro è distribuito che vuol dire allora andiamo avanti sta internet delle transazioni quindi abbiamo detto è un insieme di tecnologie che si fonda su questi famosi registri distribuiti cioè in inglese sono distribuite ledger technology quindi ledger sono i libri mastri dove noi andiamo a registrare le nostre transazioni ad esempio una quantità di una moneta digitale trasferita da da Alberto a Francesca quindi noi sappiamo grazie a questo registro di una data blockchain perché poi vediamo ce ne saranno diverse di blockchain ok noi sappiamo che quella transazione ha avuto luogo il 12 marzo del 2020 e quindi non può essere duplicata ci siede fin qui ok ovviamente l'innovazione di questo aspetto è la decentral il fatto di essere distribuito cioè un registro che per la prima volta non appartiene ad un'entità centrale ad esempio una banca ma appartiene a tutti quei nodi che compongono la blockchain chi sono i nodi adesso io vado un po avanti con le slide e poi torno indietro perché mi aiuta meglio a spiegare ora i nodi sono i partecipanti quelli che le persone che hanno un server su cui caricano il dlt cioè il registro distribuito in cui sono memorizzate le transazioni d'accordo benissimo ora le transazioni quindi vediamo questi sono i quattro componenti cinque componenti fondamentali quindi abbiamo il nodo la transazione in sé non so se voi siete stati mai sicuramente sì ma se avete mai preso consapevolezza del della transazione quando siete in banca all'ufficio postale ecco lì sostanzialmente quando trasferite un valore un documento un certificato ok state compiendo una transazione che richiede tre elementi fondamentali un mittente destinatario ok e un codice di verifica bene poi lo vedremo con calma una transazione quindi il codice di verifica è la firma crittografica nel senso che non può essere copiata da tutti ma è personale più transazioni compongono un blocco il famoso block da cui la parola blockchain perché un blocco viene attraverso una serie di giochi matematici operati dai nodi i famosi partecipanti del blockchain viene in qualche modo firmato e reso definitivo su internet quindi questo blocco collegato a un precedente blocco a sua volta un precedente crea la catena e questa è la blockchain bene ora arriviamo un attimino al concetto di hash l'hash è diciamo una stringa in codice ovviamente non e rappresenta un contenuto il contenuto di una transazione e di ciascun blocco quindi un blocco nuovo composto da tante transazioni viene generato su questo blocco un hash appunto un codice che riassume tutto è univoco cioè nessuno lo può duplicare e all'interno di questo blocco c'è anche l'hash del blocco precedente capite quindi quindi è difficile tentare di manomettere un blocco perché è proprio la generazione di un hash univoco che è solo per quel tipo di blocco quindi se cambiate anche una virgola cambia l'hash e quindi quella blockchain in una blockchain e non ha tutti gli hash verificati cioè tutti i partecipanti della block hanno uno stesso registro con le stesse chiavi cioè con gli stessi hash se qualcuno di quelli ce l'ha diverso allora vuol dire che è stato manomesso e quindi viene scartato quindi in pratica la policy la politica di autenticazione delle transazioni non è più centrale gestita da una banca per esempio ma da tutti i partecipanti nella rete mondiale bene ora torniamo un attimo bene allora vediamo un pochino quattro elementi chiave dunque allora innanzitutto partiamo da però mi piacerebbe quasi cominciare dagli inizi perché come è nata perché è nata l'esigenza della blockchain perché vedete qui in alto ragazzi trust la parola trust fiducia concetto di fiducia questo database condiviso decentralizzato distribuito e criptato che vuol dire nasce da un bisogno di superare l'organizzazione piramidale ok dell'economia perché voi sapete come funziona una banca tradizionale una banca tradizionale possiede un alto livello di trust cioè nel senso la gente hanno affidato a questa entità la propria fiducia e quindi lo considerano un intermediario per cambiare i soldi tra me e un mio amico vado in banca mi fido della banca che fa da tramite una blockchain decentralizzata non richiede più questa figura perché io e il mio amico possiamo fare la transazione senza l'intermediario semplicemente avendo ciascuno una propria chiave criptata e un registro che condividiamo insieme ad altri dove vengono registrate queste transazioni poi se ci sono domande ragazzi ve ne fate bene ok il consenso l'altro elemento chiave la blockchain è un archivio aperto a tutti i partecipanti naturalmente e può essere modificato soltanto con un preciso algoritmo di consenso quindi vuol dire non può essere arbitrariamente modificato da un'autorità poi vedremo che sono nate blockchain centralizzate ma la prima blockchain messa in piedi da Satoshi Nakamoto per la prima criptovaluta che si chiama bitcoin prevedeva proprio un libro mastro un database decentralizzato bene quindi abbiamo detto già che la blockchain è un database immutabile perché grazie al timbro il data stamp è come un libro lotarile quindi quello che c'è scritto sopra conservator alla conservatoria di stato fa legge ok quindi se tu se una persona ad esempio pubblica qualche cosa e la registra sulla blockchain qualcun altro lo fa tempo dopo qual è che ha maggior valore legale quello che ha una data precedente ecco quindi il valore dell'immutabilità ok poi la trasparenza indica che poiché la blockchain può essere installata in più nodi più partecipanti possono vedere questo pubblico registro e non devono per forza andare da un'autorità centrale e chiedere il permesso per vedere le carte bene vediamo un po' abbiamo visto i nodi principali ok e arriviamo quindi alla madre di tutte le blockchain che è quella del bitcoin che viene definita una criptovaluta anche se oggi la definizione viene rioccata dagli organismi internazionali di economia significa che semplicemente una valuta ma più che una valuta è una stringa univoca che con un quantitativo determinato che le persone possono possedere in dei propri wallet portafogli digitali e lo spostamento di questi singoli bitcoin è tracciato nei famosi registri di cui parlavamo prima ok quindi questi registri chiamati DLT hanno valore per il semplice fatto che le persone accettano di scambiarli che vuol dire che la gente ha crea un trust il famoso trust di cui parlavamo prima che la banca si è guadagnata in tanto tempo adesso se lo guadagnano delle semplici stringhe numeriche che sono queste perché la bitcoin sono delle stringhe univoche e io posso possedere diciamo 3 4 5 10 di queste stringhe che sono registrate nei registri e quindi non possono essere duplicate se io le do a Giacomo e Giacomo a Leonardo e Leonardo le rida a me sono sempre quelle non possono essere duplicate e quindi hanno un valore io posso decidere di utilizzarle ecco che allora ho dato valore al bitcoin e questo è perché oggi il bitcoin viene scambiato a circa 9000 dollari va bene ok dunque non so se avete compreso il rapporto tra blockchain e bitcoin ma lo vediamo meglio in dettaglio dunque vediamo un attimino due voi sapete non so se la parola exchange vi dice qualcosa gli exchange erano una volta quella specie di negozietti su strada che facevano i cambi a valute dalla lira ad altre monete internazionali ci sono ancora per monete esterne all'euro bene esistono degli exchange online tra i più famosi abbiamo due uno coinbase che è statunitense precisamente Brian Armstrong che è il CEO alla sede in California e poi tante filiali in Europa e Binance invece che è fatto dal cinese Chang Pei Cao che è più grande di Coinbase cambia molte più criptovalute però entrambi sono concordi su un fatto che mentre queste criptovalute nascono come un gioco avete presente quando fate videogames le energie le monete i token diciamo sono proprio gettoni virtuali sono nati così per gioco poi la gente ha cominciato a crederci gli ha dato fiducia dice ma senti un po' ma se io mi compro molti di questi gettoni ok e di fatto quindi voi vedete che da una scommessa cominciano a diventare una riserva di denaro quindi e loro sottolineano l'analogia del concetto del fatto che la storia non si ripete sempre è diversa ma ha le stesse stagioni come le stagioni tutti gli anni sono diversi tuttavia le stagioni sono identiche e quindi come in internet abbiamo avuto una storia che inizialmente era lenta statica insicura oggi è diventato il pane quotidiano così le criptovalute e le blockchain che le sostenevano perché è chiaro che non esiste il criptovaluta se non c'è una blockchain dietro che ne registi tutte le transazioni quindi queste criptovalute stanno diventando sempre più sicure però ecco hanno bisogno di questi tre elementi quindi una blockchain deve essere sempre più scalabile per poter competere con altri mezzi di di pagamento tipo Paypal Visa Mastercard e quindi scalabilità indica che c'è bisogno di fare un migliaio di transazioni al secondo e voi pensate che la blockchain di bitcoin permetteva di fare poche transazioni al secondo e quindi non poteva essere adottata da tutti perché non era competitiva quindi scalabilità significa trovare dei sistemi degli algoritmi di consenso e delle architetture che possano velocizzare appunto il processo di transazioni nell'unità di tempo ok privacy anche qui abbiamo avete visto qui fa l'esempio di internet dall'http tradizionale che era il protocollo hyper test transfer protocol è stata aggiunta la s di security e quindi significa che trasferire le pagine da un sito di questo genere da una maggior sicurezza contro improvvisati hacker contro falsari prevalentemente poi abbiamo il terzo elemento che è l'identità io come faccio ad essere sicuro che chi mi manda qualcosa sia un portatore di identità capite non sia un robot non sia una macchina non sia un bot e quindi l'idea delle dap dap significa application applicazioni decentralizzate e quindi non non una google centrale ok un facebook ma un'applicazione che può girare autonomamente su qualunque pc o smartphone e abbia la capacità di riconoscere l'utente attraverso una firma digitale ecco l'identità digitale quella famosa firma che rappresentiamo come una chiave una serratura appartiene a un certo soggetto non ci interessa di sapere la sua identità ma sapere che quella chiave è univoca ci permette di considerarla un'identità come sono univoche i singoli bitcoin così ciascuno di noi può essere univoca online cioè può essere rappresentato da un codice segreto da una firma digitale da una stringa di numeri benissimo e qui si dice che questi due esperti che ovviamente sono quelli che gesti che vedono il movimento di investimento nelle criptovalute cioè non è loro vendono sicuramente bitcoin non che li vendano loro ma permettono l'incontro tra l'offerta e la domanda e oltre a bitcoin permettono la vendita di ethereum nem monero e tante altre criptovalute che quindi quella futura blockchain che sarà scalabile che presenterà un grado di privacy e la possibilità di riconoscere l'identità in maniera univoca porterà vedete gli utenti da 50 milioni in pratica renderà appetibile questa tecnologia benissimo va bene qui c'è un piccolo non so quanto tempo mi è rimasto chi è che me lo può dire o scrivere io volevo sottolineare un piccolo perché ci sarebbero tante altre cose 10 minuti vediamo in 10 minuti che cosa possiamo aggiungere allora siccome il mondo delle criptovalute è diventato molto importante soprattutto nei periodi di crisi anche economica fondamentalmente ma anche in sicurezza psicologica dove l'economia delle borse traballa non dà certezza in particolare ai nuovi investitori allora la voglia di entrare in possesso di questo oro digitale perché viene considerato così io non vi ho parlato di dell'origine del bitcoin vediamo se ce l'ho qua altrimenti no qui abbiamo dei commenti sulle vecchie vabbè vediamo provo a citarvelo bitcoin nasce appunto vi dicevo con satoshi nakamoto che crea un un libro che viene definito in inglese white paper dove spiega la natura di questa nuova moneta gioco diciamo così che è il bitcoin e lui ritiene quindi ne produce dice diversi milioni di pezzi e dice che la gente può scambiarsi queste unità digitali quindi che non saranno prodotte oltre il numero prefissato ma che per averle bisogna minarle come si mina l'oro nelle miniere e minarle significa semplicemente risolvere un puzzle matematico che però richiede una gran quantità di energia e qui vedete che ci sono non qui vediamo nella parte precedente l'esempio di questo eccolo qui di questo olandese di 43 anni che nel 2013 era stato arrestato perché aveva rubato l'elettricità di 21 sistemi informatici per minare bitcoin quindi gli serviva questa energia affinché i suoi computer potessero elaborare questi puzzle matematici per estrarre bitcoin e lui ne aveva capito la potenzialità d'accordo poi ovviamente c'è il caso più recente della moneta criptovaluta monero che vuol dire nero nel senso che è una moneta anonima e quindi fa gola a tutte quelle persone che non vogliono far sapere di possederla ecco è una moneta nata successivamente a bitcoin noi abbiamo bitcoin litecoin ripple ethereum e tanti altri ecco e si narra che appunto tra la corea del nord e la corea del sud c'erano dei casi di crypto jacking che è un sistema una specie di di pirati di programma pirata che viene come un cavallo di troia in questo caso in javascript messo come estensione di un pacchetto in questo caso archivposter che è un'estensione di google chrome per la gestione dei blog e chi installava questa estensione in realtà faceva funzionare questo questo programmino che gli sottraeva energia del computer per fare i suoi calcoli matematici e quindi andare a minare il bitcoin a beneficio di colui che l'aveva inserito ok qui qui ci fa vedere che google fu costretto a rimuoverlo perché chiaramente non chiedeva quando tu ma io sono sicuro che forse google non si sa se lo ignorava o se avrà avuto una percentuale chissà comunque questo per farvi capire che quanto le criptovalute erano già da allora nel 2013 erano ritenute un potenziale economico alla portata di tutti anche se io non gioco in borsa non sono esperto di finanza posso entrare in possesso di alcune criptovalute ed ecco lì che ho fatto un investimento perché se questa criptovaluta nel futuro accresce il suo valore io lo posso vendere o scambiare avendo in cambio altro valore che sia moneta cartacea tradizionale o servizi informatici o quant'altro voi pensate che nel sud-est asiatico erano ormai accettati in Giappone in Indonesia pagamenti in bitcoin nei supermercati quindi possedere questi bitcoin significa ma torniamo all'elemento chiave perché è possibile tutto questo perché noi lavoriamo sul concetto di trust stiamo noi a decidere cosa può essere di valore o meno quindi la rivoluzione di blockchain è questa l'averci fatto vedere la possibilità di creare delle alternative ai sistemi economici centralizzati monolitici difficili da scalfire nessuno potrà mai pensare di competere con un multimiliardario che in borsa no voglio dire un Bill Gates faccio un esempio o altri però tuttavia la blockchain in particolare le criptovalute basate su blockchain permettono alle persone di entrare in questo mondo di creare nuove economie alternative naturalmente blockchain non riguarda solo le criptovalute io vi ho parlato delle criptovalute perché è la più importante ma blockchain riguarda anche sistemi notarili quindi la possibilità di registrare la compravendita di immobili pietre preziose certificati di proprietà azioni eccetera tutto ciò che ha un valore e pertanto quindi diventa sempre più una tecnologia che fa gola a tante società ecco io quello di cui vi ho parlato è lo spirito con cui è nata e che ancora oggi rappresenta una speranza per quanti vogliono cambiare il paradigma economico tradizionale che è di tipo gerarchico mentre blockchain e le criptovalute distribuite rappresentano il paradigma eterarchico e queste informazioni si potranno poi avere un corso aggiuntivo e magari ci saranno anche dei test su una piattaforma di e-learning come Moodle io direi di aver terminato fatemi sapere voi se c'è qualcosa di più qualche domanda grazie a questo punto come d'abitudine lasciamo tempo a chi ci ha seguito di anche fare qualche domanda potete scriverla in basso a destra e quindi poi vi risponderemo subito questo era un webinar che voleva introdurre al mondo della blockchain è un mondo complesso è un mondo affascinante è una realtà tecnologica che sta cambiando la nostra vita perché la possibilità in molti casi di eliminare le terze parti sicuramente può determinare dei cambiamenti oggi anche difficili da cogliere in termini di portata e di importanza tra l'altro una delle tante applicazioni della blockchain nel mondo dei videogiochi noi quando siamo stati in Correa io personalmente ho scoperto l'estensione dell'applicazione della blockchain al mondo dei videogiochi prima ovviamente parlava di decentralized application di applicazioni decentralizzate che sono sempre più diffuse esistono dei siti io vi collego vi segnalo per esempio una lista eccola qui me la copio qui potete trovare per esempio tutta una serie di di dApps sviluppate troverete e ce ne sono molto per i videogiochi per il betting ossia siti di scommesse ma le applicazioni veramente sono le più numerose abbiamo il nostro docente di Milano che per esempio lavora in questo settore e sta curando per esempio l'implementazione di sistemi di blockchain nel mondo real estate nel mondo immobiliare poi c'è l'applicazione della tracciatura della filiera agroalimentare poi quando entrerete di più in questo ambito capirete insomma anche la distinzione tra permissioned e permissionless quindi il mondo dei puristi blockchain che anche a giusto titolo fanno notare come se è importante insomma anche l'uso di vocabolario appropriato quando si parla di blockchain e quindi la permissionless è quella dove nessuno ti deve accettare per entrare dove puoi entrare dove puoi praticare le tue transazioni invece quelle permissioned dove in realtà qui si ricrea quella centralità di qualcuno che fa da moderatore o decide poi chi deve partecipare o meno adesso Clemente ha parlato in effetti in mezz'ora 35 minuti gli abbiamo dato anche qualche minuto in più ma insomma le cose da dire sono tante però ripeto se qualcuno di voi ha qualche domanda abbiamo ancora qualche minuto noi questi temi li affrontiamo chiaramente nei nostri corsi il nostro percorso minimo che noi suggeriamo è quello di 48 ore di formazione mista una parte online una parte in aula dove si fa del laboratorio si apre un proprio wallet Clemente potresti gentilmente tratteggiare un po' alcuni aspetti che si affrontano durante il percorso blockchain foundation in particolare la parte di laboratorio la parte pratica beh sì qualche cosa si può intanto vedere come si crea un wallet intanto stabilire scegliere una blockchain possiamo farlo sia sulla blockchain di ethereum o altre e addirittura creare un wallet inter blockchain cioè praticamente trasversale dove noi andremo a collocare le nostre criptovalute e quindi possiamo sia perché il wallet possiamo sia installarlo sul nostro smartphone e sia sul computer quindi si può imparare poi una volta che abbiamo l'indirizzo del nostro wallet vedremo che è composto da chiavi pubbliche e private un po' come il bancomat con un codice segreto e quindi possiamo dare il nostro codice pubblico a qualcun altro che magari ci trasferirà delle criptovalute nel nostro wallet e viceversa potremo fare noi e poi introdurremo il concetto di exchange apriremo magari un account su uno di questi exchange un po' più conosciuti come Binance e cominciare ad acquistare e non è più un gioco diventa una cosa interessante con i nostri euro cominciare ad acquistare qualche criptovaluta e questa criptovaluta potremmo spenderla in giro per la rete laddove è accettata per acquistare servizi abbonamenti l'altra cosa importante e capiremo la differenza tra una cripto currency e un token cioè un gettone che noi possiamo creare una volta che abbiamo la nostra cripto alcune di queste blockchain permettono a noi stessi di creare una nostra moneta chiamiamola così un gettone che possiamo condividere con i nostri amici se abbiamo delle aziende qualcosa di più serio e infatti in passato ci sono state tante offerte di token che laddove sono supportate da un progetto serio si trasformano in criptovalute altrimenti scompaiono come idee giocattolo andate o in alcuni casi anche truffe comunque ecco è importante capire che si può giocare da subito imparando giocare per imparare quindi aprire un wallet fare transazioni cioè acquistare vendere scambiare criptovalute poi creare dei token e apprendere il concetto di smart contract cioè ovvero sia quei contratti intelligenti che sono il futuro è la promessa delle nuove blockchain cioè la possibilità di collegare delle transazioni a precisi contratti proprio come quelli che noi siamo abituati a conoscere da un notaio o da un avvocato no? in questo caso sono contratti automatici per questo smart intelligenti che i software riconoscono e fatti da un buon software quindi dei buoni smart contract permettono appunto alle persone nel mondo di interagire senza la necessità di passare per un notaio e questo è utile soprattutto per transazioni internazionali dove ci sono sistemi diversi e vedremo che anche questo può essere oggetto di regolamentazione entro certi limiti quando entrano in gioco valori economici più alti ecco tutto questo può essere parte dell'aspetto pratico io Antonio non lo so dimmi tu se vuoi continuo ma sì grazie non so se grazie ovviamente no ormai siamo il tema il tema è sicuramente ricco però il nostro format dura dai 45 minuti ad un'ora siamo arrivati ormai alla conclusione io per coloro che me lo ce lo hanno richiesto ho linkato il percorso base che noi offriamo di 48 ore che permette di acquisire la certificazione una certificazione internazionale in lingua inglese valida in tutto il mondo abbiamo già avuto i nostri primi certificati che poi in alcuni casi sono diventati anche dei nostri formatori che mandiamo in giro per l'Italia sia nelle nostre sedi che presso le aziende che ce ne fanno richiesta allora Clemente io ti ringrazio per aver condensato in pochi minuti grazie a voi tutti con un concetto estremamente estremamente complesso estremamente complessi noi ridiamo i nostri affezionati grazie Clemente noi quindi invitiamo tutti coloro tutti coloro che ci stanno seguendo al prossimo giovedì seguiteci noi ogni giovedì soprattutto in questo periodo di coronavirus in cui siamo costretti a stare a casa cercheremo di mantenere questo appuntamento del giovedì alle ore 21 anche con le difficoltà di rete che a volte possono rappresentare alcune connessioni domestiche però vi promettiamo che lo faremo e contiamo di rivedervi chiaramente dall'altra parte dello schermo in una delle nostre sedi a questo punto un saluto a tutti di nuovo grazie Clemente ci vediamo al prossimo giovedì buona nottata grazie a tutti